Lasciati ispirare da un luogo intenso e unico. Punto di congiunzione tra tradizioni secolari e spirito di iniziativa, conoscenza e capacità di impresa. Lasciati sorprendere dalla cura, dalla passione, dal saper fare di una terra crocevia di luoghi e genti che conoscono il segreto del buon vivere e lo tramandano alle generazioni presenti e future. Lasciati conquistare dai prodotti, dalle materie prime, che attraverso l'esperienza custodita nel tempo diventano cibi e pietanze straordinari. Lasciati stupire dai sapori e dai profumi dell'aceto balsamico tradizionale, dai vigneti dove nasce il lambrusco. Assapora la dolcezza delle ciliegie delle valli del Panaro. Scopri i colori dello storico mercato albinelli, tutti i prosciuttifici, le aziende agricole, i consorsi, i caseifici, le acetaie, i piccoli e grandi produttori che rendono unico questo territorio. Lasciati sedurre da tutto questo. Dal fascino delle colline, dallo scorrere dei fiumi, dal mistero dei portici, dai tortellini fatti a mano, dai cibi cotti a fuoco lento dalle res d'ore, dalla cortesia e dall'ospitalità degli abitanti. Accade qualcosa di straordinario qui, nel territorio modenese. Incontro di innovazione, tradizione, cultura, passione per il cibo, nel cuore della Via Emilia. La이야 emilia. La tua amica. La tua amica. La tua amica. il cibo, Il cibo, Il cibo, il cibo, il cibo. Grazie a tutti.